Amici di Milan.soccer, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento a Terrazza Milan, l'appuntamento quotidiano con i rossoneri. Buongiorno, buon sabato. Prima di iniziare vi ricordo che qui c'è una manina, se la cliccate potrete entrare a far parte del mondo di Milan.soccer. Il buongiorno rossonero, la buonanotte rossonera. Infatti in playlist trovate diversi nostri podcast. Potete ascoltare la vita di Van Basten, di Franco Bresi, tutte raccontate in modo fiabesco. Dunque, iniziamo. Colpo. Ieri abbiamo detto che quattro sono i giocatori che Milan vorrebbe portare a casa, che sta portando a casa. Tra l'altro ci sono delle fantastiche novità. Sul centrale di difesa, oltre al derby con l'Inter per Bremer, il Milan sta guardando con attenzione a Jeppe Tanganga, che è un giocatore che vi devo dire la verità. Io mi sono informato, dopo che il Milan, o dopo che comunque si era sparsa la voce, che il Milan fosse indersato a questo giocatore. E devo dirvi che ho visto diversi video. Mi sono totalmente innamorato. Devo dire che potrebbe essere un altro colpo stile Maldini, un altro colpo stile per intenderci a Lulù, e dovrebbe, come dire, poter, ed è in grado di poter giocare sia nella fase prettamente centrale, sia sulle fasce. Attenzione, è un giocatore abituato anche a giocare con la difesa 3. Vi ricordate quello che abbiamo detto ieri? Che probabilmente il nostro mister vuole provare. Perlomeno lo farà nelle amichevoli che stanno per incominciare in Austria. Farà questa sperimentazione, cioè proverà la difesa 3. Staremo a vedere come andranno le cose. Fatto sta che come centrale di difesa c'è l'opzione Bremer, ma c'è l'opzione Tanganga, Jeppe Tanganga. Andate a vedere un po' quelli che sono i video che girano rispetto a questo giocatore. Non vi deluderà affatto. Ieri è stata una giornata di passi in avanti. Sì, perché intanto devo riprendere ancora una volta la gaffetta dello sport. Un'altra gaffa. Ieri pomeriggio sulla gaffetta dello sport online. E' apparsa la notizia in una giornata in cui il Milan stava facendo delle trattative per Renato Sanchez, per i soliti nomi che sappiamo. E vediamo quali sono adesso i passi in avanti che il Milan ha fatto. Beh, ha pensato bene di mettere a tutta pagina nella sua edizione online che succede, perché Leao non rinnova, non ti è bastata l'esperienza di Donnarumma, di Cialanoglu. Io credo che questo atteggiamento così forviante rispetto ad un ambiente dove c'è un progetto sportivo chiaro, serio, indiscutibile. Dove c'è l'unica squadra che ha un progetto sportivo basato sui giovani. E poi parliamo che il calcio debba cambiare. Quando il primo quotidiano sportivo nazionale, per soddisfare la voglia di un popolo che ormai è attento solo al nome, al brand, anziché elogiare e portare avanti, soprattutto per i giovani, una mentalità diversa che dovrà essere questa, perché sarà questa per tutti. E cosa fa? Riprende il Milan chiedendo cosa succede. Il contratto di Leao scade fra due anni. E beh, era necessario? Era necessario parlare del contratto di Leao in una giornata anonima, l'8 luglio del 2022, quando squadra a maggio del 2024. Dovando Leao ha sempre detto io voglio stare qui. Diventerà un top player? Ce lo chiederanno a cento e passa milioni? Ma allora perché non chiedi di Skriniar? Allora perché non chiedi dei giocatori della Juventus? Allora perché non chiedi perché non rinnova questo della Mila, della Juventus, della Roma, della Lazio? Perché ti preoccupi di Leao alle 14.30 dell'8 luglio del 2022, quando il contratto scave il 30 giugno del 2024? Perché non esalti un progetto sportivo che ha portato, nonostante ti dispiaccia, allo scudetto? Ecco che bisogna capire come si predica bene, si razzola male, anzi in questo caso si predica male e si spinge a razzolare male. Ma chiudiamo questa parentesi, dicendo che è così ogni giorno. Torniamo ai passi in avanti che il Milan ha fatto, sì perché c'è Renato Sanchez, l'offerta è a 10 milioni, il giocatore sembra ormai destinato ad indossare la maglia del Milan e lo stesso, dicasi, per gli altri giocatori di cui abbiamo parlato ieri. Abbiamo parlato di giocatori come Decatler e Ziyech. Tra l'altro su Ziyech c'è un dettaglio non irrilevante perché proprio ieri ha abbandonato, ha licenziato, usiamo questo termine, la propria agenzia di procuratori, quindi il proprio procuratore. Si rappresenta da solo, lui vuole il Milan. Quindi in questo caso spero, così come il Milan fa tendenza nella gestione sportiva ed economica di una società e delle società del futuro, spero che lo stesso Ziyech ci faccia tendenza rispetto anche alla gestione della propria persona e quindi dei giocatori si terminino le pagliacciate che abbiamo visto in passato per quanto concerne certi giocatori che appunto ci hanno abbandonato e che ricordiamo. E non solo a noi, ma guarda la faccenda di Bala. Ecco, quindi in questo caso diciamo che si fa veramente concreta l'ipotesi dei quattro colpi di cui abbiamo detto ieri e vi invito ad andare a vedere il video tenendo presente che come centrale di difesa è questa la novità del giorno, cioè questo possibile colpo. Io lo definisco colpo perché è un giocatore che a dirla tutta mi ha lasciato positivamente come dire, impressionato. Sono stato veramente attento a guardare ogni movimento e appunto è un giocatore che può spaziare sia dal centro verso la fascia laterale. attenzione dunque a queste due diciamo così particolarità, novità al colpo di Giapetta e al fatto che il Milan o meglio il mister Pioli voglia provare una difesa a tre. Oggi siamo in una terrazza a Milano un po' particolare vi saluto da un luogo molto speciale ve lo voglio far vedere tanto ormai siamo tutti in confidenza è un vecchio castello sulle diciamo così a Trisobio ed è un castello veramente bello che vi invito a conoscere Trisobio castello di Trisobio sulle colline verdi del Piemonte un saluto da Terrazzamina ciao